La Nissa Rugby è tornata finalmente a utilizzare lo stadio Marco Tomaselli. Dopo circa otto mesi la società del presidente Giuseppe Lo Celso, con il settore mini rugby, seniores femminile e atleti seniores maschile nisseni, attualmente in prestito ad altra società, dopo la rinuncia al campionato di Serie C per la mancanza di un campo omologato, ha svolto il primo allenamento post riapertura. È stato un momento di grande emozione per i tecnici e dirigenti che hanno potuto constatare il miglioramento e l'abbellimento dello stadio nisseno, ottenuto grazie all'impegno profuso dalla Federazione Italiana Rugby della Regione e dalla Nissa Rugby che nel luglio 2017 hanno dato l'input alla convenzione stipulata dal CONI e dall'amministrazione Ruvolo per ottenere i fondi utilizzati per la posa del manto sintetico. Ieri, dopo oltre cinque anni caratterizzati dalla burocrazia e da varie incomprensioni, lo stadio è tornato a essere fruibile al pubblico e aperto a tutta la città. La Nissa Rugby, nel corso dell'incontro avuto la scorsa settimana, ha ottenuto determinate garanzie anche dal sindaco Roberto Gambino. Il primo cittadino, inoltre, ha confermato che per le partite in casa delle varie formazioni della Nissa Rugby, il Tomaselli, tramite tracciatura delebile, sarà trasformato in un campo da rugby.